Conosciamo Andrea, professionista del settore fiscale e associato a CGN. Andrea ha molte passioni, ama dipingere all'aria aperta, insegna fisica quantistica ai giovani ricercatori, esprime tutta la sua creatività in cucina, si mette alla prova in lunghissime partite a scacchi, dà consigli di moda sul suo canale social e dà il meglio di sé come chitarrista rock. Andrea non vede l'ora di tornare alla sua quotidianità, alle sue passioni e alla vita di tutti i giorni. E lo farà sapendo di poter contare come sempre sul suo responsabile regionale, sulla sicurezza di un'assistenza telefonica ed online sempre pronta, disponibile e aggiornata, che insieme ai nostri software e alle nostre persone gli restituiscono da sempre il bene più importante, il suo tempo. E tu, riesci ad immaginare quanto sarà bello tornare alla tua vita? Se la risposta è sì, sei pronto ad unirti alla nostra squadra. Associati a CGN su www.cgn.it Facile Facile